aspetta aspetta nooo non mi chiamai per piacere non mi chiamai non mi chiamai ah vuoi parlare di una cosa abbannabile tu sei incinta e non ti voglio seguire più volevo sentirti ma non puoi sono nel live a ieri a ieri ricetta è che e volevo far uscire pure oggi ha detto no no ci sono ok ragazzi siamo in live vabbè dopo tutte le bestime di ultragame in pre live allora ragazzi anzi no facciamo una cosa no beh in realtà la tua squadra penso che non è cambiata tanto ah no oddio no in realtà si 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 vabbè invitami per la fai vedere eh si la faccio allora ragazzi facciamo vedere le nostre nuove squadre tra virgolette allora andiamo su hai vista la figura e merderà juventus due in serie contro macchia eh vabbè partita amico aspetta crea fra ti do un attimo vai zero no aspetta prima dobbiamo 6 8 7 4 6 8 7 4 cerco passazioni tipo norma allora fra la partita mettiamo 8 minuti mettiamo un minuto in più infortuni sì e fuorigioco no pariamo qui ma sperma è che pare a fare una domanda ma ma nel calcio no le sostituzioni quanti 233 giusto ok solo che male hanno aumentato per il fatto del covi della perciò No raga vi sto spoilerando Tipo 5 tipo Non erro Vabbè ormai ve l'ho spoilerato Però aspettate No spero metto un attimo La squadra normale Cambio formazione 4-3 C'è sempre una sostituzione Pure se fa tutte e 5 È un tempo regolamentare Aspetta Aspetta Vai Fred Ok raga No vi faccio vedere la mia squadra E la sua squadra Visto che abbiamo fatto la partita Quell'altra volta Raga domani e dopo domani Probabilmente ci sarà Fall Guys e Fortnite Quindi già abbiamo un quadro Preciso Allora Sta caricando Allora raga questa è la sua formazione L'aspettato Stato e bene scelgo una random Questo Sereno Inverno Normale Condizioni Ok vabbè Vabbè domani Fai la live presto Cioè Cioè No vabbè Versi 4 Cosa Perché Poi dopo le 6 Se chiamano Perché già piano Una cosa Al campagna Mamma Ok Allora 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 Questa è la formazione Del nostro caro Ultragame Fatta Cioè Vabbè Oddio È carina Ovviamente L'ho aiutato io Sulla scelta dei giocatori Secondo me È fatta bene Però bisogna comunque Vedere Come va La partita Fra tu Vabbè Già sei andato in game Io direi Vado pure io Però Bello Io c'ho Greenish Quello buono Tu c'hai il Greenish Pezzotto Vabbè fra Ecco Per dire Io ho smalling forte Esatto Io c'ho quello Pezzotto No però fra Non ce l'ho più smalling E Ah rip Eh sì fra Che mo c'ho No ma chi hai Blind Blind Che è Cucumella Col difensore del Barcellano Eh Eh qua Mo vedi Aspeleggi Aspe Non premere Le condizioni Di oggi sono ideali Per godere C'è a premere No Ah non ho premuto No Eh Vabbè Comunque si chiama tipo Come Aspe Questo No aspe Questo Condé Condé Scusa Condé Condé Ah Sì È forte Sì 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 Fra è forte Ed ecco qui Leo Messi Leo Messi Leo Messi Leo Messi Leo Messi Yeah Toledo? Dumbi? Che cazzo? Eccala Già che parte Già che parte C'è che parte No 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 Eh Calla Mamma mia Caccarella Cacchina spruzza Io prima giocavo Col Contro piede E mi trovo bene Ho messo Con questo qua Mi trovo Sì ma Io vorrei capire Ma rega via Perché Smalling Sta al centrocamp E non ha difeso Eh lo sai che Succedono un po' Di robe strane Musiala Messi Messi Ancora Messi Ancora Guarda Tutti che Si dimenticano In pallo Ovviamente E lui Segna Come FIFA Gli script Di merda Però Di Messi È agile Però Essendo Scarso Difisi Con Non è C'è In smoglio Un gol Nei primi minuti Forse un po' Inatteso Da entrambe le parti Prende il pallone Ancora Messi Ancora Messi 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 E calla Messi 93 No No Fra me Se tu vedi le statistiche Cioè fa schifo Cioè schifo Nel senso che è forte Schifo Ma è forte Sì I rapporti di forza Sono chiari Al momento Sicuramente cercheranno Per aumentare Il loro dottino Ok Musiala Bella Musiala Eh c'è il buco In difesa Eh c'è un tiro Di merda C'è il buco In difesa Perché Il mio smalling Va a centro campo Che poi Ho cambiato Il nome Cioè Il numero Di Messi Ho messo il 10 Che c'aveva il 30 10 come vecchi tempi Ah beh c'hai il 30 come al parista germani Eh no però io ho messo il 10 Che è più bello Ah ma si Possono cambiare i numeri Sì tra tutti i numeri puoi cambiare Che suffi Eh Dopo Sì eh ma non so Spesso come si fa No vanno No vanno Fra non premere le due Ecco Ecco Regalo Tutto 10 Che cazzo ha fatto Eh vabbè Se è stronzo Oh porcaccia C'è stronzo Sakura 2 a 0 Il Napoli E' messi Pc'è il terreno Messi Mena il terreno Che poi ho visto come si gioca col possesso palla Cioè te la devi passare sempre ma è difficile Eh Devi fare i passaggi e arrivi a E' un po' complicato Eh sì Palla scolz Palla fruttante da nessuno Eh vedi Oh 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 Eh ah frate ti ha spostato con lo fisico Eh ah Sto messo Sto messi cano Sto messi cano è merda Eh no è basso È basso Perché Smalling è lì Perché Se non mi devi mettere le tattiche Fran Ho messo qualche tattica Non è che ti ho fatto mettere qualche tattica Non penso No fra le ho messe ma Eh non è che Non ho toccato proprio a Smalling Non lo so fra Vecca vedi Certo se so palla mi fa cagare Ah Eh vabbè Blinda Messi non avanzo No fra ma le partite che ti fai In divisione Eh va boh Va a far culo Giustamente ci ha provato Ma non ha toccato nel modo giusto il pallone Vabbè Allì 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 Fallo No non è fallo Che ci pensi mi dava il rigore Oh bella Bella giocata Però Eh Eh I passaggi che fanno schifo qua sopra No fra in realtà Sai cosa Allo Tipo Questo non è come FIFA Che su FIFA No si piglia Mbappé Che è veloce È più veloce di tutti Non è così Qua pure se Mbappé è veloce Non Cioè magari uno che è un po' più lentino Te lo frena Non so È un po' strano Come meccanico Un po' più compilato Ottima scelta di tempo Bella 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 giocata Uh Bu Mertz Eh cala E' un regalo Tutto di Vai Mertz Oh Sta a fare la coglione No 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 Mertz Vai Aspetta vai Però vedi il posto Sto pallafrasi Senta 59-41 Ma aspetta Tu che c'hai Pure tu È il posto Sto pallafrasi Cioè È una passaccia Ma Sturley Sturley Messi 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 Che tira di merda È ancora Messi Incora Messi Incora Messi Incora Messi Incora Messi Incora Ancora Messi Oh Attenzione Uh Eh Bella 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 Sto giocata Però il posto Sto pallafrasi La vedi è fastidioso Che tu ti fai un'azione Tu stai basata sul possesso E poi la perdi all'ultima Metti in grippi Bella Ma non ce la fa messa Uh Cazzano Per poco Burlanno Non ce la burlò Però nonostante la cazzata La palla ce la lui Nonostante la burla La palla ce la lui Ma che cazzo Uh 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 C'ho capito un cazzo Bella 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 Stazione Non ho capito Non è Non ho capito Cioè Guardi qua Che lì c'è il 4 Ma che è sta cagata No 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 Rappaggia cagnè numero No no Ah Rappaggia un altro Fra Giacca ogni numero Cioè No mi fido di vedere Quei Che lì c'è il 4 Cioè Che numero 5 Cioè Che lì c'è il 20 No Non mi ricordo C'è la merdaccia Cioè Cioè Addirici Gli hai dato il 20 Che c'è il 20 Bello proprio Mh Cioè Grillish Non va Eh ma vedi Non c'è un cazzo Io davanti Bella Messi Bella Meji Meji Musiala Musiala E passa dietro E ovviamente Vaffanculo tutto Si smicchia tutto E Osmo L'ingaccia Centrocampo Non ho capito Il perché E' 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 Io perciò Amaro sempre Fatto L1 E X Che so Non si spiega Eh poi Solo farò Non so Non ci so Non ci so Bella Fra l'ho Un consiglio Non premere X Prova a premere triangolo Perché da come ho capito il triangolo E Va meglio qua Come passaggio Ah Vabbè Cioè se la devi mettere mezzo a passaggio Prova con triangolo Vedi come va Ok Eccalo E c'è Smalling Sempre al centrocampo Incredibile Bell Ok Dormono Cioè qua Non nessuno ti caga Pallo Mai No eh E' un regalo Bell Bell Uh Bella Pallegno Si ma i miei non lo so Stanno facendo le sigla I balla col dieci Capiamo 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 E balai dice Alzatevi Alzatevi Ehi Andate a caso Perché la partita è finito Dai E adesso ovviamente Distacco si riduce Sono stati bravissimi A rimettersi in corsa Potrebbero anche andare a vincere Bell Poi Piacere Non ti fate le sigla Giocata Piacere Piacere Può andare E' calla Mamma mia No fra Non ci credo Ma non ci credo Mai nella vita Ma non ci credo Mai nella vita Che cazzo Stavo combinando Che distunzo Di perdere la concentrazione No vabbè Di andato marato È male Marato 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 Dai la prima finita Marato Marato Con uno scarto minimo A termine di una gara Senza esclusione di colpi Non sia la Disputato Una partita Vabbè però Bene o male Comunque è stata una bella partita Allora Qual è la tua opinione Sulla gara Questa squadra di giocare Ah no fra Ma tu lo puoi fare Già da qua Se non erro Già spero Non voglio di cazzate Però No Esco No No Non usci Non usci Ci sta Ci sta Premo triangolo Triangolo Metti Squadra Aspetta Allo Scama di gioco Squadra Squadra Numeri di maglia Numeri di maglia Numeri di maglia Ok Eh ma li cambi tu Runai simon 1 Ok Smalling Smalling Di dono No 4 Ok C'è la scioccolizione Corta la tirà blind Ma che cazzo Ma perché sto gioco Fa così Giocatore in attacco Casemiro Aspetta Nei calci piazzati Sì va bene Casemiro Giocatore in attacco Ok Funzionalità assistita No Numeri di maglia No Schema di gioco No Ora Scelta Tattiche A me questo Mi interessa Formazione Ce l'ho Stile di gioco Alle giocatori Ma tengono la posizione Per massimizzare L'efficacia dei passaggi Brevi Inoltre evitano Di lanciarsi In spazi Lasciati aperti Dalla difesa Avversaria Ecco Perché fanno I coglianci In fase di difesa Mantiene una linea alta Per mettere pressione All'avversario Eh ok Questo è un bunino Una volta in possesso La squadra Ok Contropide veloce Contraattacco Cala di parecchio Però mamma mia 85 Io c'ho Contraattacco Riuscivo a giocare io Via laterale Vabbè Giochiamo il possesso palla E non fa niente Però via laterale Pure altino Vabbè No Con il possesso Vai Istruzioni E i giocatori Designati per Ritorno Di prestare in avanti In fase di attacco Il giocatore indicato Si può essere Un attacco Rispetto al solito Mettiamo Skulls Ancoraggio Impedisce al giocatore Selezionato Aspa Impedisce al giocatore Selezionato Deve allontanarsi Orizzontalmente Dalla propria posizione Per esempio La prima punta Rimarrà in posizione centrale Le ali Non si accentreranno Quindi rimane La stessa posizione Vabbè Questo non lo metto Offensivo E metto Offensivo pure Musiala Perché c'è un bel tiro Secondo me Aspetta No Posso mettere difensivo In realtà Errora in partita Capitano Allora Il capitano Voglio che lui Tiratore su palla lunga Dammi Vabbè Questo lascia Dado a ma Errora in partita Stati 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 Ultrarium che non ci sta capendo una sega Ho detto Ultrarium che non ci sta capendo una sega Ma mette tutto arrando Attivo Questo ho fatto, questo ho fatto Guarda Non voglio farmi Non voglio farmi Non voglio a amare Non voglio a amare Tararara Non lo so vado se non lo sa e va in partita dai butto questo de qua quest'altro lo mettiamo chi cazzo tengo di là ah si lui l'ho sbagliato diviso no frate frate è vero quei sciac vabbè non mi interessa un cazzo chiudi chiudi sta Mario Minuto mio fratello che già sta sullo stadio Napoli-Ajax e qui il Napoli perde 3-0 perché ci sta a mio fratello sulla stadio se perde vado a casa sulle uccido suoni pisellata in faccia ok allora vai oh frate piace la stemma che mi son messo carino carino Beppe carino Beppe carino Beppe Bergome e Fabio Caris e Rossella abbriscia e questa la mano e questa no vabbè basta andiamo avanti vabbè ho già messo tutto quindi andiamo in game e ci facciamo ma partito signorino buonasera buonasera signorina il problema sai qual è che non c'è tipo l'opzione per il giocatore singolo cioè ad esempio non posso mettere tipo Messi che scatta solo lui capì mi sta cosa mi fa accusa perché io potrei no su fifa eh lo puoi fare stanno le istruzioni e metti cioè le puoi mettere si 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 lo so lo so io di solito metto sono in attacco tipo Messi no? faccio stare tipo centrale e inserisci e inserisci ti ti ha le spalle eh capito è una cosa del genere no no ma lo so lo so perché andabbi a depurio qua non lo puoi fare c'è una cagata cioè qua se fai una cosa la fai per tutti a me sta cosa non mi piace che spettacolo questo stadio tra non premere l2 cioè no no r2 che cazzo premi tu comunque ti sminchia tutto è Messi che senso ha le due aspetta aspetta ah Messi mamma mia è Fran uno è Simone allora ci sta una una cosa che fai che in pratica è come si il giocatore si allontanasse dalla palla tipo te la te la protegge però non lo fa perché è una cagata no chi è? ma non ho capito che tasto che è il primo muto però ho visto che il giocatore si stava allontanando è il senso e vedo il remake no 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 mamma mia Fran si io ho rischiato lo so 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 ma perché ti tira blindi? io non capisco ma fra e poi puoi cambiare io infatti prima ho cambiato lo ho fatto e ma non vabbè affanculo lo gioco di me scum bro ah che poi Fran non mi ricordo con chi sta facendo una partita comunque che cazzo ha fatto? ho fatto ho fatto una una rovesciata tipo meno male cioè non mi ricordo se l'ha parata o la palla è andata fuori comunque ha avuto un bucione di culo quello vabbè ha fatto un tiro di merda non capisco per ma è se è sinistro eh ci ha fatto studiare no però se non mi sbaglio sa tirare tutto il due vabbè però tira un po' di merda ecco beh la di ball è proprio schifo beh la di ballo eppure di ballo è più forte a livello di statistica capì c'è il Thunberg 96 almeno 93 vai 0 ma tanto si farà si farà una bella squadra è a cala è messi in un'avanza eccolo è proprio lui non il pezzotto ma l'originale guarda però siamo 0 a 0 ma poi marcano strano qua su per chi no lezzo non si fa lezzo ovviamente chi lo vanno con l'ha qua marcello è a lungo super eh vabbò copriamo palo ovviamente il portiere marcello è il portiere il portiere è il portiere è il portiere è il portiere è proprio d'obbligo e deve coprire il primo palo però niente è il portiere di merda ma quello che ti ho fatto prendere è la carta base se non è la carta di cosa del portiere no la carta normale si 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 no fra mai ho visto gente roberto carlos ronaldino ci stai prendendo gusto però bicicletta a volo si si bra è questa bicicletta a volo una fai si con mezzo volo messi che non vado ci provo ma si eschi ecco di problema che non c'è di balavero fai scim se ci fosse la mappa secondo me sarebbe meglio io io infatti a fifa guardavo la mappa vai alves vai alves ma ero alves troppo musho frani vabbè fra ma c'è il giocatore di meno nonno è più veloce capito e meno nonno è più veloce e fra ma c'è il giocatore di 70 è normale pura meno il sonsemito fa cagà ed è 70 però casemiro calla sovi la gioca lunga dietro eh beh avassarete ma avassare messi spaici grilis l'arcaccia bravo mi spiace ma marcello va va fuori rosa va fuori rosa marcello no no non basta fra ma se per questo vanno tutti fuori rosa eh vedi oh rischio non riesco a fare un'azione oh spaici dico me la gioco con calma per evitare rischi eh ma Messi come cazzo fa eh capisci io non posso mettere il cross oddio in realtà potrebbe eh bravissimo bravo wow no Messi dove fa il tunnel che cazzo vabbè finì vabbè una zero sai puoi recuperare eh fanno trovato la partita vabbè fra però prima cioè stavi per recuperare ma fra ha fatto zero zero team secondo me devi provare a giocare con un'altra formazione con il controattacco però sai cosa il possesso palla sulla tua formazione ci sta messo bene secondo me facciamo una cosa mi cambio pure io qualcuno mi cambio c'ho un'idea voglio fare voglio fare una cosa strana cioè cosa vuoi fare intanto lo leggo lo so vabbè no strana che sminchi strana metti il portiere in attacco messi in porta dai vai capiamo bro capiamo eh ma adesso capiamo niente fra hai tre secondi va ho fatto voglio vedere come va perché che cosa ti hai fatto fra hai fatto sostituzione allora ho tolto sterling ho messo allora ho tolto sterling ho messo mertens e ho spostato messi a destra muoviamo che fa ah bene ecco qua c'è messi oh cano mertens eh bravissimo cioè guarda non la piglia no secondo me devo togliere funzionalità se mi assistite perché secondo me fa cagare è quello che mi sta rovinando il gioco prendi ah ma no non mi spacci però vedi qua è difficile quella putta di merda oh qua è difficile che vi fate tipo ventigol come su FIFA capivi no o FIFA non so ventigol vabbè ironia lo so che non so lo ha messo che cazzo guarda il campo è fannuto attenzione giocando col pubblico è proprio un clown burlone però non l'hai tolto più che cosa a Marsella eh fra non c'è non c'è nessuno sul terzino che è ci sta bello 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 no non ho capito dimmi che dormono ma si fa che cazzo ha fatto ma che era che cazzo ha fatto ma e fra se era un tiro normale che ha fatto così no era un passaggio però ha fatto quello che ho detto io si bello guarda Mertensky cazzo mamma mia mamma mia mamma mia messi eh chi allarga il gioco con pallone ah no eh beh l'avevo marcato quando si sia normale fallo ovviamente eh sì questo si fra era fallo fanculen ecco maradu maradu fanculen fanculen a cala bravissimo se vabbè è morto fallo rosso giallo no rosso mai giallo no il rosso è giù la ma il rosso non sa se mi sa che ti dico ah basta però eh frate io stavo per segnare così eh vissà portano pallone vabbè frate ma non so tirare qua c'era questa è normale bravo è cala bravissimo di cosa tira metti ecco sbagliato io qua comunque ho dato un pacchero sul cazzo cioè fa male cazzo no ecco ho perso la mia potenza mamma mia ma fa male mamma mia no no ecco vedi vedi hai premuto qualche tasso strano vedi perché sei allontanato dalla palla la palla la mia però ma la destra o la la sinistra bella bella l'azione poi hai fatto caga tu hai fatto caga centralmente ovviamente centralmente ovviamente 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 centralmente sempre ovviamente sempre ovviamente cala e cala driss driss cazzo non va ma beh te vede camionato incredibile lo vede ovviamente gridisce troppo lento per fare passaggio a giro eh 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 vudur ma va fa un culo va bello che tacco di merda oh ma rotti con chiù ciò insegnato vabbè è finita seconda vittoria non c'è più tempo finisce qui una bella ritoria davvero fondamentale 2 a 1 1 a 0 ma pensa che ho tolto quello proprio che che mi faceva il culo cioè ho tolto Sterling che mi ha segnato pensa un po' bella la canzone che poi se non ero ci sta una canzone qua sopra che è di FIFA 19 fra me dice che sta ancora in game ah sta vedendo la statistica il mio brett è ceduto si ovvio 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 va fra oggi giaino 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 durante il passaggio la vara di potenza di mettere a blu e di effettuare il passaggio capito comunque fra hai capito come devi fare per mettere stile offensivo e difensivo fra con le freccette eh si sopra e sotto devo premere due volte ok stadio ok stadio vabbè siamo sulla normale di football stile normale farlo scegliere a giaino eh non po' giaino scelga lo stadio cicciaino io muo voglio provare a mettere messi più avanti vediamo se cambia qualcosa scelma di gioco ah lo metto grillish e sterling più dietro lo metto qua proprio cioè sono curioso metti qua e messi lo metto proprio avanti 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 vediamo che cazzo cosa succede vai maradona maradona tutto il mondo urla maradona maradona allora vediamo un po' gigiaino ok io che rubo l'instagram delle tipe non andiamo qui tu rubare fratello perché tu rubare tu no rubare se ho pezzo di merda loro dopo picchiare te mio essere non posso dire ma poi una tizia mi ha messo like al fatto che la dovevo contattare ma questa non c'è la foto non c'è un cazzo e non sono fake no oh angel ma non me la foto la bucciacca no no sei diversamente reale al posto di disegno è diversamente reale azi tu vai già vai di difensivo eh frate vabbè ci sta divo ci sta dici tu almeno mi faccio una bella ripartenza e provassero una tornice perfetta perché se lo aspettavo se lo assaggio mamma no frate no a me frate no però frate lo accetto io ho fatto il primo di giro e tu l'hai l'hai parato quindi era normale che la pallandasse eh frate no pitino goloso ma io non la stavo passando a quella a sterling la stava passando a messi non so perché la passata a sterling vabbè ma ci ho provato esbole corre a casa sua vai esbole tattica al volo Nelson Semedo quello che tira dalla distanza e segna tu hai fatto non avrete dalla palla all'avversario mamma mamma mia che grande è spezzatutto braccio e ha tirato Nelson Semedo cioè tu dici sta smoling in attacco perché sta Nelson Semedo al centrocampo scusami fra non lo so non chiedere mia? no è mio fra no fra è mio come tu ma che cazzo ha detto aveva ottenuto un buon calcio di punizione come se fosse mio io spezzo di merda sta gioco zelinski 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 blinda blinda mi ha blindato ma porco due oh frate dai che cazzo dai messi dal lato vi segnali che cazzo ma è fallo ti no a me è fallo frate no dico fallo non savo che te l'avessi fatto io invece eh vabbè c'era quella guarda sta iniziando lo script sta iniziando a farsi sentire eh che passaggio ma mi pensa se non la prendi le ho messi 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 buono buono no vabbè fru ecco vabbè mia no su certo ya che marone ya eccemi super bravi fino al monte il problema è che aspetti troppo capi aspetti troppo eh fra ma devo ma devo se sei mutato ma devo silenzio in aula ah ovviamente ha fatto passaggio cc su chris incazzato nero c'è un silenzio silenzio imbalazzante presso mont passaggio e mert mamma mii pallorete pallorete pallo di dietro e grito vai è stata solo una questione di centimetri vorrei fare un tiro bellissimo di bala contro vince vince di bala eh framon no calm stai un po' esagerando mamma mii ti salva tu Dani Alves ex amico di Messi vabbè ci ho provato a sotto la coglionata Musiala è tua no è mio no suo Egi Egi è un rando uff uff era bello sezio zero tiri come sempre ma pure prima hai fatto penso un tiro hai fatto un tiro un gol credo che il risultato rispecchi i valori visti in campo meritano il vantaggio perché hanno giocato con convinzione là davanti adesso non devono commettere l'errore di chiudersi in difesa c 1 0 dopo i primi 45 minuti and I wanna find porco il Gio porco il Gio giopoco bello quando c'è scritto questa persona si è scritta a tiktok me ne credo come un cazzo e spiegami che questo secondo tempo possa regalare sull'attacco vai bea si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura dai mi scordo che che non è fifo mi dimentico mi dimentico che non è fifo no mannaggia la tua ah spazio il mcci spacci eh fredda messi eh beh ma non posso mai segnare con me si era a land forse forse ho 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 non è un'altra e ti non vedi zelinski vedi zelou passaggio per di ballon ma non va un po' manda per caso vedo vari uomini che rimangono alti anche quando stasera si dice ubera tutto 10 tutto 10 bello ha ballato a faccio se non puoi batterli mena lì capiamo fra capiamo capiamo orcatura uomo burmonno mamma mia fra stavo per rischiare stavo per rischiare stavo per rischiare no basta il risale è troppo malefico si calcio d'angolo facciamo a zona va ma niente ci ha preso gusto che cazzo ha fatto ma messi non ce la fa cioè questa è più veloce di messi ma ti rendi conto è blindo fra si è blindo ha ho fatto la cazzata no vabbè però è calcio d'angolo infatti è così è calcio d'angolo infatti è così martens martens e ho messi mette il cross dentro in aria di testa casemiro e di nuovo angolo e me qua non so come cazzo si tirano però messi ma che cazzo oh ma che cazzo fai vabbè vabbè ripartenza zelinski la mette sotto per dibala boom prende il muro davanti di balona ma comunque continua c'è due di loro e nessuna piglia vabbè vabbè però ho sbagliato tutto eh te la regalo eh zeli ogni specie cimtira grilis jack grilis grilis dentro per messi messi eh eh per messi ma dov'è eh manca proprio qualità nel palleggio il mister non sarà per niente cosa era quel passaggio questo fallissimo bene ah frate me l'ho spostato con la spalla fra fra eh l'ho mandato a mondo dei verdi eh a fondo la prima non tutti la sta roba questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante eh peccato che non si può fare la tattica del coccodrillo so ma perché gira a 23 io non capisco stanno cercando chiaramente di farne un altro è normale non gli fa un altro eh oveh 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 fra è lento quel tiro cioè ci mette troppo tempo per caricarlo tira normale bravo vedi stai quasi per segnare che è quasi infatti è però è perciò sto dicendo non tira non fa quel tiro ci mette troppo tempo e siamo al loro terzo corner ah no come sta fa però non lo chiama ovviamente a questo punto del match non possono restare nella loro metà campo devono proporsi in avanti c'era buona Jack 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 mamma mia 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 che cazzo ma che cazzo è pericolosissimo eh vabbè fra è quando fai un'azione oppure fai tipo una rovesciata e non la segna vabbè questa era scontata è la prendessa si è fatto trovare pronto reattivo ottima scelta di tempo fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera lanciare meno picciato ma adesso e zelischi possiamo andare avanti ma indietro vede lo scatto e cerca la profondità c'è c'è due gol fatti uguale si fra però dai vedi quanti tiri ho fatto e quanti non sono entrati c'è 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 far vedere statistiche sono curioso c'è fra ha fatto quattone dici 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 in posto per i passaggi ne hai fatti più tu i passaggi è riuscito a 89 vabbè fra abbiamo 13 minuti ce ne facciamo una cosa lo so per lo so per perdere pure la quarta no vabbè le prime le ho vinte questa è una partita fatta a random amichevole scazzevole sto pensando ah ci sto beh sembra 8 minuti se no metto 10 che dici 10 si beh l'ultimo come va va che poi ho visto tutte le cose da fare ma non ci sta proprio niente gli eventi li ho fatti proprio tutti però vedi qua fra la cosa bella è che ad esempio tipo escono i giocatori del mese quelle robe le tu li puoi pure prendere gratis cioè vabbè ovviamente dipende aspe cioè però ti da il coso gratis capi che puoi vedere se ti se ti esce fra scegli un campo mezza va ma Emirates che cazzo è quello del Paris Saint Germain? no il Paris Saint Germain è il Parco dei Principi ma si chiama no si chiama parco del Paris parco del principe parco del prince parco del prince parco del prince boateng che mi prins boateng cosa di bello boateng da voi all'ex all'ex ma non mi ricordo stanno ancora insieme no comunque a me basta solo nel dubbio il terzo adesso è il portiere a sto apposto a me a quell'altro mediano i terzini i difensori ce l'hai fra smalling e blind e smalling e blind e poi il mediano che mi serve il mediano di sinistra i due terzini l'attaccante no l'attaccante ce l'hai vabbè c'ho c'ho di bala come attitivo però qualcuno di me è un po' più alto eh fra secondo me se chi potresti prendere allora Ibra Lukaku o no Framison non ho messo 10 minuti vabbè scampano è perché mi sono scordato ah lo stavo dicendo Lukaku Ibra o un altro che è alto aspeghi può essere ma Ibra non lo paghi tanto scap 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 è calla è calla è calla sempre così comunque Framison stavo dicendo Ibra mi pare che costa pure poco aspeghi quanto c'hai 76 86 e allora lo puoi prendere costa 50 mila però devi potenziare ovviamente sennò bello bello però è centrata beh purtroppo però ha avuto il tempo di tirarla comunque sta dicendo Lukaku però se non mi costa di più se no frase che devi fa devi conservare le monete e ti devi prendere i pacchetti dei giocatori poi ci sta quello del milan che stanno tutti quelli del milan ah beh si ovviamente messi ci sta Jack Grealish bravi bravo 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 il pallone e io proprio qua lo volevo esatto esatto comunque ibra secondo me si può fare non è manco tanto lento se non erro cioè io ci ho giocato contro non era proprio lento però non c'avevi posto a squadra mamma mia mamma mia che ti sei salvato no vabbè no si invece si la devi perdere gioco di merda guarda usiala gioco grigis gioco grigis iniziativa promettente ma gli avversari hanno fatto buona guardia bene un barco e si infila in dribbling ok 1 ok 2 ho capito tu vuoi fare una maniera che cazzo ha fatto ma senso cioè se fosse robusto secondo me sarebbe un animale su sto gioco vabbè devo premere triangle let's go vabbè almeno nessuno mi ha marcado che cazzo ha fatto che cazzo fa che cazzo fa ma che cazzo no vai caga ma le cacarone scatto ma non c'è il contropietro 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 è normale che nessuno scappa secondo me c'è te come scatto cheat e di balla lo mettono a sedere incredibile ma non segnerà mai e fra ma me scatta oh scatta il semplice fatto che faccio il fatto con l1 perché sennò col cazzo che scatta me bella questa bella jack grilish ovviamente con la fine del tiro si allunga il pallone ma non c'è il contropietro se neanche fai un stop i palloni ma ritirati fai schifo ritirati ma io non vengo a giugare e fai il pallone non dimenticare capiamo ecco vabbè mamma mia non 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 lo vede più pensare di essere ancora sull'0-0 nessuna delle due ma fa fa un punto ma rimarca adesso ma messi non qua mai lui non cura tu covi ma lui non cura a sinistra a sinistra a sinistra e se allunga il pallone e lo prende pure tezzare cosi pezzo cosi in mezzo a s s s s s forse forse braviss vabbè ce l'assamo regalo si tutto 10 è un regalo ah schiatto eh mi sa questo è rosso fai se vuoi messi no vabbè scammone il gioco che non dava mai rossi e blind vuole tirare ma c'è blind c'ha 81 messi c'ha 90 che faccio tra bling ma non c'hai messi no no fra non ci ho messi ma si è messo a bordo cambio è uscito qui è soccorso bello è morto oh no fra non puoi attenzione attenzione da blind che c'è dov'è assoluto luca luca ah mio bel passaggio no ne ho vero è schifo si messi ma devi rientrato che fatto quel tiro ancora ahahah 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 eh vabbè eh vabbè oh bello fallo messi no bling messi eh blind vola un mertuffo a mare eh che cazzo fa no 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 ma che cazzo fa a me ho premuto triangle fra se l'ha autopassato ma che cazzo fa si fra hai fatto l'autopassato di knockout ecco ecco ancora blindo ma non so se si può fare la ravescia cioè se devo premere qualche tasso per fare la ravescia ah no guarda mamma mia che bomba ma fra no non c'è che dire ti stavo mhm attenzione vabbè paolini oh tu ma che cazzo fa vabbè attenzione ancora messi vabbè messi male questi siamo noi messi male a parte zieluski ancora zieluski il passaggio vabbè c'è due di loro vabbè fraudi recupera un gol ma vai a cagar ma vai a cagar musiala ma vai a cagar ancora messi io voglio far segnalare messi sto da tre ore scemo di messi ovviamente i spezzò le gambe superi vabbè vabbè stavo per fare il remake mamma mia non c'è lui che ti dà gli scappi da sola no ma che cazzo fa maro 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 vabbè vabbè sta morendo messi che c'ho voluto tirare vabbè vabbè e finisce così che ragazzo comunque durano più o meno 10 minuti le partite vabbè ma quell'altra quelle altre volte sono durate di più che aveva fatto supplementare eccetera vabbè 1 a 0 tu un tiro ci sta hai tenuto una vittoria di me io 20 mila tiri vabbè raga ci vediamo domani la sorpresa ovviamente era le ho messi noi ci vediamo domani ma o con fifo eh con fifo eh con fifo con full guys con fortnite comunque si frati si frati aspetto su fifo vieni vieni si certo aspetta se me lo scarico faccio l'abbonamento 90 euro vai ciao e nulla ragazzi noi ci vediamo domani un bacio e un abbraccio e ciao a tutti grazie